François Maneri? L'Ali Saint-Ovent. Non ci frequentavamo più molto. Lei non seguiva i corsi da mesi. E il suo fidanzato, Frédéric, lo conosce? Sì, certo. E si amavano? Così pareva. L'ha più visto da quando Rachel è scomparsa? Lo incrocio, sì. Comunque non stavano più insieme da un po'. Rachel ha cominciato a uscire. Credo abbia conosciuto molte persone. Perciò ci siamo perse un po' di vista. Ci frequentavamo parecchio il primo anno. E poi... è arrivato Frédéric. L'amicizia è continuata, ma in modo diverso. E il suo patrigno? Mi sta chiedendo se ci andava a letto, vero? Per lei chi non ha un padre deve sentirsi per forza attratta dagli uomini più anziani. Lei è un tipo strano. Fa le domande, ma poi sembra fregarsene delle risposte. C'è un diploma per essere detective. Un corso molto serio qui a Parigi. Lo sapeva? Ne ho sentito parlare. E che cosa ne pensa? Io me ne fotto.